Vai, vai. Ok, perfetto, grande. Ma adesso facciamo un po' di fisica. Allora, che tipo di forza sta entrando in gioco? La forza centrifuga. Dipende dal raggio in maniera inversamente proporzionale. Che vuol dire? Quando è più pericoloso? Fare una curva a gomito stretto o fare una curva a gomito largo? Quanto è il raggio della curva stretta? È questo qua. Quanto è il raggio della curva larga? È questo. Se il raggio è piccolo, la forza centrifuga è grande. Tradotto è pericolosissimo in macchina, in moto, andare veloci in una curva stretta, piccolina, in un bel, nei tornanti. È molto pericoloso.